Gino Cecchettin, il genitore di Giulia, ha aperto il suo cuore in una confessione toccante durante un'intervista rilasciata al Corriere della Sera. Attraverso le parole, ha condiviso l'agonia dell'ultimo saluto alla sua adorata figlia, tragicamente sottrattagli dall'ex fidanzato Filippo Turetta nella notte dell'11 novembre scorso. Il 5 dicembre, la comunità ha assistito ai solenni funerali di Giulia Cecchettin presso la maestosa Basilica di Santa Giustina a Padova. Questo evento ha segnato un momento di lutto e commozione che ha abbracciato l'intera cittadinanza, riflettendo la profonda tristezza che ha colpito il cuore di tutti. Gino Cecchettin ha condiviso con il pubblico il suo struggente addio a Giulia, descrivendo con dettagli commoventi il suo desiderio di poter toccare le mani della figlia, a volte con delicatezza, e stringerle prima che la bara fosse definitivamente chiusa. In queste parole, si avverte la forza dell'amore genitoriale, l'angoscia di un padre che ha perso in modo tragico la sua bambina, una giovane vita spezzata troppo presto. È stata un'esperienza incredibilmente difficile, ma in quel momento l'ho sentita vicina come mai prima, ha confessato Gino Cecchettin. Le sue dichiarazioni commoventi hanno risuonato profondamente nel cuore degli italiani, offrendo una testimonianza eloquente del dolore indescrivibile che accompagna la perdita di un figlio. Il 5 dicembre è diventato un giorno simbolico, un capitolo doloroso nella storia di Padova, dove la comunità si è unita per piangere insieme la perdita di una giovane vita promettente. La Basilica di Santa Giustina, solenne e maestosa, ha assistito a una cerimonia funebre che ha suscitato emozioni intense e ha fatto eco alla fragilità della vita umana. La storia di Giulia Cecchettin ha suscitato un'ondata di solidarietà nazionale, con molte persone che si sono unite per esprimere il loro cordoglio e offrire conforto a una famiglia spezzata dalla tragedia. Il suo ricordo vivrà attraverso il dolore condiviso e il tributo di coloro che l'hanno conosciuta e amata. In questo momento di lutto, la comunità si è stretta attorno a Gino Cecchettin, offrendogli sostegno e compassione. Le parole del padre addolorato continuano a echeggiare, ispirando riflessioni sulla fragilità della vita e sull'importanza di apprezzare ogni momento con i propri cari. Giulia Cecchettin, giovane e piena di vita, resterà nei cuori di coloro che l'hanno conosciuta, e la sua storia serve come monito contro la violenza e come richiamo all'importanza di promuovere l'amore e il rispetto nelle relazioni. Che la sua anima possa trovare pace, e che la sua memoria possa essere onorata attraverso un impegno collettivo per un mondo più sicuro e compassionevole.